buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di pano tv oggi è martedì 16 aprile 2024 e i giornali questa mattina sono pieni di commenti politici perché dopo l'esito finale delle primarie che sono state organizzate dal centro-sinistra ora il dibattito politico diventa ancora più intenso ci sono dichiarazioni commenti per quanto riguarda i risultati delle primarie ma ci sono anche così i dialoghi e contrasti tra i candidati delle diverse posizioni delle diverse fazioni politiche che ora guarderanno con più grande attenzione all 8 al 9 giugno prossimo quando ci saranno le elezioni per il cambiamento dell'amministrazione comunale per la elezione del sindaco di fano oltre che per le europee ma vedremo questo poi sui giornali intanto anticipiamo così come introduzione alla nostra rassegna stampa il santo del giorno leggendo l'armanacco ed eccola qua la santa di oggi una santa molto cara molto nota e santa bernadette su birù la santa di l'urde e dobbiamo ricordare che era la mattina dell'11 febbraio del 1858 quando bernadette con la sorella antonietta e una compagna andarono a cercare legna nei dintorni di l'urde e giunti alla rupe di massabielle furono testimoni di un fatto straordinario improvvisamente la rupe si inondò di una nube d'oro e apparve una bellissima signora una signora vestita di bianco con un nastro azzurro che le cingeva i fianchi ed era l'immacolata concezione così si era definita questa signora un termine di cui bernadette non conosceva allora il significato ma era ben noto invece alla chiesa locale da quel 11 febbraio 1858 poi le visioni continuarono anche nei giorni successivi ebbene qualcosa cambiò cambiò a l'urde cambiò nella francia cambiò in europa e da allora l'urde è diventato l'incontro di tante tante persone che cercano nella loro fede una ragione alla loro esistenza quindi questa è bernadette bernadette subiru ed ora passiamo alle previsioni del tempo invece vediamo come la primavera ormai si attesti caratterizzi di sé tutta la giornata e ora l'alta pressione è che è durata nei giorni scorsi in modo che si è stabilizzata nel nostro territorio ora va un pochino indebolendosi favorendo l'arrivo di aria più umida responsabile di un lento aumento della nuvolosità dal pomeriggio sino a cieli nuvolosi questo dicono le previsioni durante la serata quindi alla sera dovrebbe offuscarsi un po il cielo e le temperature le temperature 14 la minima 24 siamo veramente con temperature estive la massima il sole è sorto alle 6 e 24 e tramonterà alle 19 e 50 queste le previsioni del tempo i venti sulle coste spireranno da ovest e nord ovest mentre nell'entroterra da sud ovest e il mare comincia a essere un po mosso insomma qualche onda un pochino più alta rispetto a quella dei giorni scorsi allora apriamo il corriere adriatico sulla pagina di fano vediamo l'articolo di apertura abbiamo detto che parlavamo di politica e così è ora tutti insieme proseguiamo per arrivare alla vittoria finale è una dichiarazione che tutti e quattro i candidati delle primarie del centro-sinistra hanno fatto dopo le elezioni a candidato unico del centro-sinistra di cristian fanesi il risultato delle elezioni di domenica anche se è un risultato preso per i capelli perché il distacco con il secondo classificato alle elezioni ovvero samuele mascherini è stato solo di tre punti i tre sconfitti alle primarie fanno quadrato intorno a fanesi abbiamo basi solide e siamo uniti hanno dichiarato e ieri hanno convocato una conferenza stampa in cui hanno ribadito che tutti insieme vorranno collaborare per vincere le elezioni del prossimo mese di giugno e hanno soprattutto insistito sul fatto che il centro-sinistra è unito e si presenta appunto solidale e compatto per questo grande appuntamento invece vediamo cosa come interpreta questo momento storico della città di fano questo momento politico diciamo meglio il resto del carlino fanesi primo sms per marchigiani lui repica uniti solo se ti fai da parte insomma ancora vediamo come sono distanti le posizioni tra la centro-sinistra e i progressisti di cui fanno parte anche il movimento 5 stelle ci sono dichiarazioni oggi sul giornale anche di marta lungeri e ovviamente dall'altra parte poi c'è il centro-destra che è più agguerrito che mai per convergere tutti su luca ser filippi comunque i fanesi dopo aver così appreso della sua nomina a candidato di tutto il centro-sinistra ha mantenuto la sua promessa quello di telefonare telefonare a marchigiani che è il suo interlocutore perché insomma sono due parti che fanno parte della sinistra che si contropone con la destra ma non è chiaro leggendo il giornale se veramente fanesi ha telefonato ci ha parlato con marchigiani o gli ha mandato solo un sms insomma tanto per disobbligarsi di una promessa quindi ancora non si capisce bene leggendo il giornale comunque il centro-sinistra non rinuncia all'idea del campo largo e cerca di buttare un più verso i progressisti però insomma ci sono diversi problemi anche perché i progressisti vorrebbero che fanesi si facesse da parte in quanto come evidenzia il giornale che stamattina leggendo questo trafiletto è politicamente troppo impacciato e sono sue le delibere più contestate dai 5 stelle ha detto appunto marta ruggeri le primarie non hanno scaldato i cuori dei fanesi fa notare teodosi ospici di fanno ribella con mille persone in meno che hanno votato al ballottaggio rispetto al primo round delle primarie quando sono stati eletti i due candidati che poi sono andati al ballottaggio samuele mascarin e cristian fanesi vediamo anche marta ruggeri come vi avevo anticipato l'unica possibilità per il campo largo ha detto la coordinatrice provinciale del movimento è che fanesi si sieda a discutere del programma e poi faccia un passo indietro a favore di marchegiani ovviamente loro impongono il loro candidato sindaco come candidato di tutta la coalizione che si contrapporrebbe al centro-destra ebbè ancora le parti sono molto lontane da trovare un accordo veniamo le altre notizie una notizia di cronaca mascherine fake assolto il venditore si tratta di un caso che risale alla vendita delle mascherine ai tempi del covid in ballo e la farmacia Pierini che ha acquistato un grosso lotto si tratta di 14 mila euro di mascherine però allora non erano queste mascherine contrassegnate con il marco CE e quindi avrebbero tirato in ballo il venditore però allora la normativa non era così chiara e sembra che non ci fosse l'obbligo di questo marchio e quindi il venditore è stato assolto dal giudice e poi il caso di Bellocchi sfruttati al car wash ma i testi ritrattano si tratta di sfruttamento della mano d'opera a due egiziani in ballo un 46enne e un 30enne che nel 2021 erano stati arrestati con l'accusa di aver reclutato alcuni connazionali arrivati in Italia con i barconi sfruttandoli nell'autolavaggio i faraoni di Bellocchi però i testi ritrattano e quindi il caso illanguinisce e poi parliamo di sport ma parliamo di sport per quanto riguarda le strutture che ospitano le partite, le gare più importanti il volley a Fano è uno degli sport più seguiti e che determinano di più l'entusiasmo dei fanesi ebbene si parla del nuovo Palace Sport che dovrebbe ospitare non solo gare sportive ma anche concerti, incontri e anche convegni di carattere così vario in modo che sia così un attrattore turistico per tutti i mesi dell'anno nuovo Palace a Chiaruccia tempo scaduto a parlare oggi di questo problema è Emilio Cenerilli che è presidente della Virtus Fano ha bisogno di un impianto all'altezza altrimenti dovremo emigrare ha dichiarato ebbene le prospettive che la Virtus salga di categoria e poi sia costretta a disputare le sue partite a Pesaro comincia a essere piuttosto reale e questo priverebbe Fano di una attrazione seguita da tanti tanti giovani perché il volley a Fano è molto molto praticato anche a livello, soprattutto a livello giovanile il volley che poggia sul cemento di una grande tradizione cittadina e i numeri lasciano poco spazio alle interpretazioni perché la Virtus che sta lottando per salire in A2 ha un seguito di circa 600 pensate tra ragazzi e ragazzini che praticano il pallavolo in città l'Allende ha meno di 800 posti per l'A2 ne servono mille adattarlo sarebbe troppo costoso e quindi bisogna veramente oltre che parlarne perché di costruire un nuovo palace se ne parla da tanto tanto tempo bisogna fare i fatti ora e cominciare a mettere un progetto l'area si sa è stata già individuata e poi cercare i finanziamenti per realizzarlo passiamo alla cronaca siamo a San Costanzo anziano intrappolato tra la motozappa e l'olivo attenzione ai lavori nell'orto nel giardino, nei campi, nei mesi primaverili perché possono capitare delle disgrazie si tratta questa volta di un 77enne che è stato salvato dai familiari che hanno allertato i soccorsi è stato portato in eleambulanza ad Ancona che cosa è accaduto? è accaduto che l'uomo è caduto tra la motozappa il tronco di un albero e respirava sempre più a fatica ed era diventato cianotico quando sono arrivati i soccorsi che sono riusciti a liberarlo dall'incomoda posizione per un proprio preso per i capelli è stato salvato si tratta di un 77enne Tarcisio Ciaramicoli di Solfanuccio di San Costanzo l'orto con il motocoltivatore veniva fresato quando la macchina agricola che aveva la retromarcia in Granata si è inceppata poi un altro incidente si è verificato invece a Fano si tratta di un camion che è andato a fuoco la E78 chiusa per 4 ore a far scaturire l'incendio potrebbe essere stato il surriscaldamento dei freni distrutto il carico dei mobili qui vediamo una foto significativa dell'intervento dei vigili del fuoco di Fano passiamo ad Urbino spostare la provincia Alex Megas scusate la provincia Alex Megas i Cinque Stelle rilanciano meglio la vecchia Osca si tratta del progetto del sindaco Gambini che ha cercato appunto di trovare una nuova sede per la presenza della provincia che proprio in questi ultimi tempi si è evidenziata ancora di più ad Urbino beh il progetto del sindaco non piace ad una delle liste a sostegno di Scaramucci a Canavaccio è più baricentrico avrebbe dichiarato appunto questa componente politica e poi si parla invece a Carpegna di queste grandi pale eoliche alte 200 metri veramente una esagerazione che potrebbe inquinare anzi che inquinerebbe sostanzialmente tutto il panorama del Sasso Simone e del Sasso Simoncello interviene in questo caso anche il critico d'arte Vittorio Sgarbi che si esprime contro le torri che dovrebbero essere elevate in territorio non marchigiano ma siamo al limite del confine tra le due regioni tra le marche la Toscana il sindaco Romina Pierantoni sarebbe questa la famosa economia circolare di cui avremmo bisogno è un punto interrogativo insomma le pale eoliche sì sono dei mezzi che producono energia pulita ma poi hanno un controaltare che è quello dell'inquinamento del paesaggio è veramente vedere queste grandi torri che si innalzano rispetto alle torri naturali del Sasso Simone e Simoncello costituiscono una bruttura che dovrebbe essere evitata secondo appunto le tesi che vengono esposte lo stadio Durantino è ora tutto per John si parla di Urbania in questo caso lo stadio comunale è stato ufficialmente dedicato alla memoria di Giuseppe Guerra grande sportivo anima del calcio di Urbania detto appunto John è stata veramente molto molto partecipata la cerimonia nella tarda mattinata dell'altro ieri per l'intitolazione dello stadio comunale a Giuseppe Guerra deceduto nell'agosto del 2022 a 95 anni per l'occasione di fronte alle autorità locali dirigenti sportivi le vecchie glorie e i tifosi è stata affizza una targa celebrativa all'ingresso dello stadio quindi anche un momento di intensa commozione per il ricordo di questo personaggio vediamo ora le notizie che appaiono restiamo sempre sul resto del Carlino sulla pagina di Pesalo dove emerge ancora l'attenzione il sottopasso dei Capuccini il sottopasso torna a vivere strappato e a degrado e Puscher sarà sorvegliato dai monitor protagonisti sono i giovani qui è l'assessore Pozzi lo vediamo qui in questa fotografia l'assessore Pozzi che illustra l'opera dietro ai Capuccini che verrà inaugurata sabato prossimo telecamere collegate con la polizia locale in modo da tenere sempre sotto sorveglianza questo angolo un po' discosto ma importante della città di Pesalo le telecamere inquadreranno chi entra ed esce facilmente transitabile il sottopasso anche dalle biciclette quindi una via importante per il traffico pesarese sotto sequestro la villa di un prete per ora gli agenti nelle stanze a svolgere rilievi mistero sul reato è un articolo un po' emblematico quello che appare sul resto del calino questa mattina l'abitazione divisa in tre piani di 415 metri quadrati appartiene a Don Roberto Pelizzari che da anni non vive più in Italia ed è la procura di Urbino che ha attivato un'indagine il religioso e nipote dell'ex sindaco Aldo Amati il quale dice non sapevo nulla ora si sa soltanto che i sigilli sono stati apposti alla villa di questo sacerdote l'ipotesi di reato però non si sa bocche cucite quindi sarà il caso di tornarci nei prossimi giorni per vedere gli sviluppi di questa vicenda vediamo poi il caso Fiorenzuola spiaggia abbandonata immondizia ovunque idranti danneggianti siamo in un posto veramente molto bello di natura ambientale ancora selvaggia però insomma ci sono problemi di inquinamento di abbandono di degrado che dovrebbero essere risolti la denuncia è di Stefano Mattogno cani liberi ed escrementi i turisti veneti moto a velocità folle nessun controllo né autovelox questo per quanto riguarda appunto il resto del Carlino torniamo torniamo ora al Corriere Adriatico vediamo un articolo di cronaca a fondo pagina siamo nella prima pagina di cui l'apertura abbiamo già dato notizia e vediamo come c'è una notizia di cronaca giudiziaria testata all'attaccante condannato a un anno si tratta di una partita di calcio che fu si sviluppò il 21 novembre del 2021 quando il Torre San Marco che è una squadra di frate Rosa affrontava il Real Gimarra in una partita valida per la seconda categoria durante un'azione di gioco un attaccante va verso la porta avversaria e poi viene bloccato dal portiere e qui viene insomma ci sono delle contestazioni chi dice che ha subito una testata chi dice che il portiere sarebbe stato provocato con epiteti anche un po' a sfondo razziale insomma poi qui le posizioni sono controverse fatto sta che il giocatore ha ricevuto un colpo molto molto importante la vittima aveva riportato una frattura della volta cranica tale da essere operata e da causare un'evidente cicatrice al volto oltre a un indebolimento della vista all'occhio sinistro insomma sono cause piuttosto effetti piuttosto gravi il giovane era rimasto otto giorni al nosocomio nel frattempo il giudice sportivo ha squalificato per due anni il senegalese dai campi da gioco il senegalese è quello che aveva provocato queste ferite al suo avversario ebbene ieri il giudice ha condannato il calciatore a un anno con la pena sospesa oltre alla provisionale di 5.000 euro con il risarcimento che verrà poi definito in sede civile gli avvocati della controparte hanno chiesto 150.000 euro di risarcimento però questo sarà valutato in seconda istanza qui vediamo l'articolo che riguarda l'acquisto delle mascherine di cui abbiamo già parlato da parte della farmacia Pierini e poi un articolo un po' più leggero a fondo pagina ebbene domenica scorsa il Vespa Club di Fano ha organizzato il tradizionale concorso della tagliatella un concorso in cui noti personaggi si sfidano a mettere le mani in pasta non è un eufemismo oppure una frase così tanto per dire ma è veramente una frase reale un'azione reale quella di fare le tagliatelle con la farina con l'acqua le uova poi si fa l'impasto poi insomma si smena la sfoglia si taglia insomma veramente c'è stato di che esibirsi in questo atto che di solito è un atto che fanno le donne ma ci cimentano anche gli uomini e si è cimentato con grande successo l'assessore allo sport e tiene Lucarelli che ha vinto appunto questa gara sfida della tagliatella Lucarelli è il signore della pasta l'assessore si è giudicato la gara organizzata dal Vespa Club di Fano il Vespa Club di Fano è un sodalizio importante per la città non solo perché dal 1949 pensate è operativo è una delle associazioni più vecchie più gloriose della città di Fano ma perché è un ambasciatore della nostra tradizione del nostro valore della nostra cultura della nostra gastronomia in molte regioni d'Italia con i suoi viaggi che fa da una parte e l'altra sulle due ruote recentemente è stato in Sardegna ed ora il disegno più importante è quello di arrivare a Caponord con un excursus che attraverserà tutta l'Europa a nome della pace e poi a settembre il grande raduno a Fano di tutti gli appassionati della Vespa questo veicolo tradizionale che ha molti molti estimatori in tutta Italia passiamo a restiamo ancora a Fano perché vediamo che c'è un ulteriore progetto di valorizzazione dell'aeroporto quello della realizzazione di un'area didattica di un campus sportivo quindi un'area culturale un'area ambientale supplettiva al progetto del parco dell'aeroporto targata TECFEM e ora questo è allo studio di fattibilità creare un'area naturalistica con finalità didattiche e in aggiunta una possibile futura connotazione sportiva questo è un'ulteriore occasione di qualificazione sperando almeno che la prima quella del parco venga a soluzione perché lì ci sono stati molti molti problemi per arrivare alla fine la stanza dei francobolli a San Lorenzo in campo un'attrazione che comincia a essere nota in tutta la regione pensate sono tantissimi 97.000 i francobolli risalenti agli ultimi decenni degli ultimi decenni dell'ottocento e ai primi del novecento sono anche francobolli storici che hanno tappezzato tutta un locale tutte le pareti con delle raffigurazioni che sono veramente belle anche da vedersi ebbene la stanza è stata inaugurata dal sindaco Dell'Onti poi da Morieri Bonafede Giuliano e Paolo Zingaretti li vediamo qui in questa fotografia è stata inaugurata insieme al museo etnografico africano che è stato allestito a San Lorenzo in campo e voglio segnalarvi prima di chiudere un'altra notizia è importante perché la festa dei Garagoi Amarotta verrà dilazionata di qualche giorno Garagoi sempre più scarsi slitta la sagra i cambiamenti climatici non hanno reso possibile la pesca in quantità di questo mollusco ed ora la 75esima edizione sarà posticipata al 18 e al 19 maggio con la possibilità di una data alternativa il 17 e con questa notizia chiudiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento come sempre alle 7 di domani grazie per l'ascolto e a risentirci grazie per l'ascolto